Grazie Presidente. Quest'ordine del giorno noi lo riteniamo di un'importanza fondamentale perché mentre nelle altre regioni che sono indicate nelle premesse dell'ordine del giorno voglio ricordare la regione Lombardia, la regione Riguria, la Basilicata addirittura, il Fiori Venezia Giulia ed altre ancora hanno legiferato su questa materia, hanno legiferato mettendo il vincolo delle distanze e dei luoghi sensibili la nostra regione pur essendo una delle più colpite dal fenomeno ha pensato bene o forse per dimenticanza non vogliamo essere maliziosi e dire che lo hanno fatto apposta certo però una dimenticanza così vuol dire perlomeno essere quantomeno non interessati a risolvere il problema diciamolo in questo modo, così come forse non sono interessati a risolvere il problema le persone che asseriscono che bastava copiarlo da quello di Genova se avessero voluto farlo potevano farlo e non lo hanno fatto quindi vuol dire che per loro il problema non è così sentito come lo è per noi allora noi chiediamo con forza alla luce anche dell'ordine del giorno proposto dai nostri regionali regione ed approvato che chiedeva di modificare la legge regionale in materia mettendo la distanza dai luoghi sensibili di 500 metri noi chiediamo una cosa molto ferma chiediamo alla sindaca e all'assessore e alla giunta di farsi parte attiva nel sollecitare il presidente della regione Lazio pro tempore e l'assessore competente ad esprimersi quanto prima in merito della distanza delle sale da gioco dai luoghi sensibili già individuati nella legge regionale Lazio numero 5 del 2013 determinando in almeno 500 metri onde consentire a Roma Capitale di svolgere una concreta ed efficaciazione di contrasto al gap normando finalmente dall'aspetto che per inerzia della stessa amministrazione regionale è rimasto indisciplinato fino ad oggi allora per noi il problema è sentito noi abbiamo intenzione di prenderci le nostre responsabilità di andare a normare questa giungla che ci ritroviamo in questa città su questo fronte abbiamo le nostre intenzioni e queste intenzioni potrebbero essere vanificate dalle omissioni fatte nelle altre sedi allora poiché quando una cosa importante ed è giusta va fatta noi sollecitiamo che questa cosa venga fatta grazie